Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 22 dicembre nella fascia oraria 21-6, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite con Tursi e Campania in direzione Fisciano. Sulla raccorda autostradale di Benevento fino al 22 dicembre per lavori al cavalcavia che sovrasta la 16 Napoli Canosa nei pressi di Venticano e attivo lo scambio di carreggiata nel tratto compreso tra il casello di Benevento della 16 Napoli Canosa e lo svincolo Castello del Lago in direzione Benevento. Sulla strada statale 7 bis di terra di lavoro fino al 24 dicembre si procede a carreggiata ridotta tra le località Mugnano del Cardinale e Monteforte Erpino in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 145 Sorrentina per lavori sul viadotto San Marco, fino al 21 dicembre nella fascia oraria 21.30-6.30, escluse le notti comprese tra il sabato e la domenica, è chiuso il tratto compreso tra le uscite Castellammare-Ospedale-Castellammare-Villa-Cimmino in entrambe le direzioni. Mentre nella fascia oraria tra le 6.30 e le 21.30, esclusi il sabato e la domenica, è interdetto al traffico il tratto compreso tra i svincoli Castellammare-Ospedale e Gragnano verso Sorrento. Sulla strada statale 18 di rena inferiore fino al 28 dicembre, da lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.30-17.30, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo il senso unico alternato tra le località Battipaie e Vallo della Lucania in tratti saltuari. È tutto, grazie per l'attenzione.